L'anno scorso abbiamo iniziato, la volontà è quella di non essere vincolati a pochi ambiti del design e della progettazione e poter espandere i temi che vogliamo trattare, abbiamo visto prima quello della rigenerazione umbana, a tutto tondo, quindi essere più inclusivi possibile, dare più spunti possibile. L'anno scorso abbiamo iniziato un percorso che tocca anche l'ambito della moda, design per eccellenza, e abbiamo avuto ospite Sara Savian della Carespace di Milano, che ci ha parlato del tema del digital fashion, di come le tecnologie open source, come software, come hardware, possono essere messe a disposizione, l'anno scorso abbiamo visto per favorire la digitalizzazione di un ambito che nel corso del tempo è anche rimasto abbastanza analogico, tradizionale per alcuni meccanismi e quindi abbiamo visto quelle opportunità. Quest'anno invece, siccome un po' di anni fa ho conosciuto Luna attraverso i social, attraverso un progetto molto carino che mi è piaciuto, che hanno realizzato lei e il suo ragazzo Daniele Fraugiana, di condivisione proprio, che quindi calza a pennello, ma voglia di condividere della conoscenza con i valori che esprime questo evento, hanno realizzato un progetto che si chiamava G-Class, delle video lezioni per parlare, per condividere delle esperienze fatte con le piattaforme, in quel caso di prototipazione hardware Arduino, che tutti noi nella nostra comunità conosciamo, non so se tutti voi conoscete, delle schede hardware open source che sono ormai diventato quasi uno standard nell'ambito della prototipazione elettronica, costano poco e permettono modularità e di spaziare, diciamo, con la creatività e la cosa interessante è che essendo open source sono state declinate in tante tipologie queste schede e una in particolare era stata rivolta all'ambito del fashion, della moda, e quindi Luna si è messa in gioco, forse per colpa della contaminazione in questo caso, della passione del suo ragazzo, raccontando i suoi esperimenti, quindi mi è piaciuto anche qui, come dicevo, raccontiamo un percorso professionale che ha beneficiato di alcune dinamiche e anche di alcuni strumenti, quindi vediamo cosa fa oggi Luna e come è arrivata a formarsi nella professione che sta svolgendo adesso, quindi ti lascio pienamente la parola. Ok, buongiorno a tutti, ringrazio Giovanni per avermi invitata, in realtà quando mi ha chiamata, mi ha scritto, è stato abbastanza un po' interessante e imprevedibile, perché comunque ho pensato, ma cosa centro io? e in realtà poi ho letto, centro tantissimo, ho letto poi appunto un po' la tematica che veniva appunto esposta durante questa conference, che era appunto la contaminazione. In realtà la mia vita è stata, fin dall'infanzia e quindi anche da dove sono nata e quindi da dove provengo, una continua contaminazione, quindi vi parlo un po' da dove è il mio background, quindi io, lo sentite dall'accento, sono toscana, quindi provengo da un paesino toscano che è molto caratteristico perché ha forma di chiocciola, quindi la chiocciola che risulta un po' questo sentirsi sempre a casa, quindi un po' avere questa appunto comfort zone che si parlava appunto precedentemente, quindi rimanere comunque ancorati a un luogo. Quando in realtà effettivamente sì, è un luogo che si porta dietro molte tradizioni, quindi quello che può essere appunto durante una manifestazione, quindi un po' la parte folcloristica di questo paesino, di avere durante agosto queste donzelle paesane che hanno in testa dei cesti pieni di fiori. E ovviamente ancorato al territorio, quindi la patata viene appunto, viene fatta una sagra durante l'estate, per agosto, quindi le persone comunque non è che ci sono in abbondanza, però comunque viene ripreso in mano un prodotto tipico del luogo. In realtà c'è stata una contaminazione quindi in questo piccolo paesino, quindi sono presenti delle case museo di Carducci e di Galileo Galilei, quindi comunque è sempre stato un paesino sì di passaggio, di solido nelle tradizioni, però molto aperto diciamo a una contaminazione. Ok, procedendo appunto dal punto di vista familiare io ho avuto delle contaminazioni dal punto di vista nella mia infanzia e nella mia adolescenza, quindi provengo da una famiglia dove la sartorialità, quindi l'abbigliamento, la calzatura era intrinseco nel quotidiano da parte appunto dei miei nonni e anche il fatto di avere questa filosofia del fai da te, fai da sola, creati le cose da sola e condividi poi anche con le altre persone. Quindi dalla mia parte materna ho avuto anche una visione di condivisione con le persone, quindi una formazione, un dare all'altro qualcosa. Quindi ho iniziato fin da piccola a disegnare, quindi provenendo appunto attualmente lavoro nel campo della moda, però il mio percorso è iniziato quando ero molto piccola, quindi a sette anni. Preferivo disegnare sui miei quaderni a righe o a quadretti delle bamboline o comunque dei disegni discutibili ad oggi e preferivo condividere questi miei disegni in cambio dei compiti di matematica, perché ovviamente essendo una creativa non voglio essere insomma... E mi chiedevo, ma piccoli business? Eh esatto, quindi non sono stata molto avvezza alla parte diciamo calcolativa o comunque matematica nella mia vita e ho sempre preferito essere creativa, quindi non voglio essere insomma citare un luogo comune, però sono una creativa e quindi la matematica mi sta un po' strettina. Ok, quindi procedendo sempre ho avuto questa radice che mi portavo sempre con me, quindi il fatto di progettare, pensare e poi mettere in pratica, quindi creare qualcosa che poi fosse visibile, quindi tangibile alle altre persone. È arrivato il momento dell'adolescenza, quindi decidere che cosa fare dopo le scuole medie, ovviamente sempre un'incognita per noi giovani decidere che cosa fare alle superiori. La mia famiglia mi ha sempre dato libertà di scelta e quindi ho preso un po' la palla al balzo e ho visto che vicino a dove abitavo, quindi mi sono pian pianino spostata dal mio paesino nativo, un percorso professionale, quindi ho scelto un istituto professionale dove non solo trovavo settori come l'elettronica, la meccanica, l'aziendale in genere, ma c'era anche un percorso di abbigliamento e moda. Quindi da lì a 14-15 anni ho cercato di costruirmi un lavoro, quindi ho scelto di lavorare nel mondo della moda e in realtà io provenivo da questi sketch sui quaderni, quindi effettivamente non sapevo che cosa voleva dire lavorare nel mondo della moda. Quindi con il mio percorso professionale ho capito che da un semplice disegno, da un semplice bozzetto, potevo mettere in pratica quello che disegnavo. Quindi ho avuto un percorso abbastanza tecnico e ho iniziato a capire che cosa voleva dire costruire un cartamodello, quindi disegnare un cartamodello, rendere reali le cose che disegnavo. Posso fare una domanda? Sì. Quindi qui hai aggiunto competenza ovviamente comunque a qualcosa che avevi visto in più. e nella fase in cui, fin da piccola, grazie ai tuoi genitori a questo punto, alle educazioni che ti hanno dato, hai sperimentato questa condivisione, l'effetto sui tuoi compagni qual è stato nel senso, hai avuto un feedback oppure sei stata bullizzata? No, no, ovviamente avevo molti clienti. Se ne scatta una spirale, diciamo, virtuosa da questa cosa, tu hai iniziato a scatenare qualcosa che poi magari è stato anche ripetuto, diciamo, oppure è morta lì? No, ho sempre ricevuto, diciamo, un feedback positivo da quello che creavo e condividevo con i miei compagni. Infatti, ovviamente poi, quando ho messo in pratica, diciamo, un po' la mia passione, ho sempre ricevuto delle commissioni, quindi mi puoi fare quello, mi puoi fare quell'altro, quindi c'è stato comunque un approccio sempre positivo a quello che era un po' la mia passione iniziale. Quindi sì, effettivamente non sono stata bullizzata per questo, perché alla fine, ripeto, erano disegni discutibili, però apprezzabili e inusuali, perché comunque quando siamo piccolini ognuno ha, diciamo, i propri modi di disegnare e quindi anche una bellezza discutibile, diciamo, in questo senso. Però, appunto, procedendo dopo la mia, diciamo, la mia costruzione della mia piccola figura, quindi avevo comunque 18 anni all'incirca, ho deciso che dovevo continuare la mia crescita. Quindi sì, ok, mettere in pratica quello che avevo studiato, le mie basi, però dovevo approfondirlo ancora di più, quindi questa sorta di avere sempre questa fame di conoscenza che mi ha sempre un po' caratterizzato, quindi il non fermarsi mai. Quindi ho scelto un'università che anche qua mi ha portato ancora più lontano da casa. Quindi mi sono spostata nell'Aretino, ad Arezzo, dove lì effettivamente era un luogo dove sì, ho affinato ancora di più la parte progettuale, quindi come ricercare appunto ispirazione, quindi andare proprio a captare le tendenze che appunto la moda genera e poi trasforma in abbigliamento, ma mi sono avvicinata anche un po' alla cultura che caratterizza un po' la parte della Toscana orientale. Quindi il fatto di essere ispirati dall'ambiente, il fatto di essere sempre proattivi e attivi con quello che ci sta attorno. Quindi ho potuto affinare un po' questa ricerca di quello che avevo intorno a me e metterlo poi in pratica, in questo caso, sugli abiti. Quindi ho fatto in questo caso un piccolo progetto dove appunto disegnavo semplicemente un figurino che andando avanti posso dire migliore rispetto a quando avevo sette anni, però il fatto di ispirarsi e ispirarmi con appunto la cultura che era del luogo mi ha dato modo di avere e di ricevere quello che poteva essere la tradizione e trasformarla e portarla quindi in un prodotto che magari poteva essere recepito anche dalle persone. Quindi ho lavorato su un'idea di ricamo che si era appunto ispirata a questo grande, diciamo, non viene la parola, però il grande fiore che era posto sopra la chiesa di Sansepolcro e così creare un ricamo su un abito, quindi avere un po' una sorta di match tra quello che avevo appunto ideato nella mia mente o attraverso appunto tendenze e poi riportarlo su un prodotto e portarlo anche sulla parte di come esporlo, come pubblicizzare un prodotto. Quindi disegno, ricerca e poi messa in pratica dell'idea. È stato molto disciplinare a tutti gli effetti. Esatto, sì. E ovviamente l'università mi ha dato modo di lavorare con software CAD. Quindi ovviamente la moda è sempre stata, diciamo, concepita come qualcosa di artigianale, qualcosa di fatto a mano, qualcosa di fatto su misura, sulle persone. In realtà c'è un cambiamento molto lento, ma i processi accompagnano un po' questa sartorialità. Quindi utilizzare dei software CAD che velocizzano questa sorta di lavoro che può essere definito magari un po' lento e non molto creativo, che è quella appunto del modellista, che è la figura molto tecnica all'interno appunto del processo moda, e affiancarla però a quello che poteva essere la parte di una prototipazione digitale. Quindi qua è stato il primo dettaglio di quello che appunto sono oggi, di realizzare qualcosa graficamente su uno schermo e prototiparlo virtualmente. È stato appunto soltanto una piccola puntina perché poi ho tralasciato, quindi ho bloccato questa contaminazione che mi era stata appunto presentata durante l'università e andando avanti poi mi sono fatta appunto contaminare da altri contesti, quindi per procedere e andare avanti. Quindi ovviamente... È interessante questo passaggio perché appunto la contaminazione, la ricerca della diversità in funzione della tua esigenza di crescere. Esatto. Quindi di andare oltre, intuivi che c'era qualcosa oltre quello che è il percorso didattico, diciamo... Esatto. Anche perché io penso che quando una persona nasce o comunque ha delle... Diciamo, ha la creatività un po' intrinseca in sé stesso, quando si scontra appunto con l'università o comunque con lo studio, è come se avesse dei paletti, diciamo, tecnici da seguire, perché comunque è un po' la società che ti porta a canalizzare un po' questa creatività. E questo mi ha sempre dato un po' fastidio. E ovviamente sì, ok, l'università o comunque le scuole in genere ti devono dare una base, però questo è svincolato poi alla tua persona. Quindi comunque lo sguardo verso l'esterno ci deve essere sempre. Quindi, ok, fare corsi, ok, stare appunto in questo mondo istituzionale, però condividere con le altre persone le proprie esperienze. E appunto poi dopo vi dirò che ho sempre amato questa idea di avere una community o di partecipare a luoghi di co-working e di condivisione con le persone. Quindi avere comunque un campo, un, diciamo, no un visore sulla nostra visione appunto delle cose, ma avere una visione più ampia, ok. Quindi infatti qua parte un po' questa, questa idea di andare fuori, quindi di vedere che cosa c'era fuori. Quindi erano un po' gli anni dove i social network uscivano fuori o comunque qui in Italia e questa idea di condividere sul web le proprie idee. Quindi qua erano gli anni dove ho conosciuto appunto il mio attuale compagno, che chiamerò l'ingegnere. E l'ingegnere che ovviamente con me ha avuto sì una condivisione, una contaminazione dal punto di vista professionale, che però mi ha sempre dato un po' di frurito, perché comunque era una cosa che io ho sempre visto come matematica, cioè no non posso e quindi ho pensato e ho detto no dai vediamo che cosa c'è appunto oltre quello che è un po' il mondo della moda e lui mi ha fatto conoscere il mondo che c'era attorno ad Arduino, quindi un po' questa piattaforma, quindi questa un po' idea che era appunto uscita fuori da Banzi e il fatto di avere un microcontrollore che potesse essere programmabile e dare modo appunto a questa tecnologia di creare qualcosa, quindi di automatizzare magari alcune cose e di avere poi un feedback, che per me era fantascienza nel senso qualcosa che non avevo mai visto sinceramente. e appunto con lui ho messo insieme un po' quello che era il mio background e il suo. Quindi ho ideato appunto, era un progetto universitario, quindi durante la mia tesi avevo progettato appunto una collezione dove in quel momento mi sentivo molto, diciamo un po' in solitaria, un po' neremita e quindi avevo pensato di idealizzare una collezione dove appunto il mio target, la mia donna, doveva essere in solitaria, andare al polo nord e non vedere nessuno. In realtà con l'ingegnere ho appunto ideato uno zaino, semplicemente, che avesse però come collegamento con la realtà il trasferimento e quindi di avere, di captare le coordinate GPS, ok? Quindi sapere almeno dove sono. Quindi ho conosciuto Lillipad, quindi è un microcontrollore appunto ideato da Arduino, che posso cucirlo, posso lavarlo e quindi mi si è aperto un mondo e ho detto no, ok, devo fare questo. Quindi l'ho appunto messo, l'ho cuscito su questo zaino e avevo un display, quindi sullo spallaccio dello zaino che azionandolo, non chiedetemi come, perché comunque è stato seguito dall'ingegnere, ricevevo le mie coordinate GPS, quindi è stato un po' abbastanza, diciamo, mi ha aperto un po' gli occhi questo mondo e così ho iniziato a conoscere quelli che erano i progetti, quindi un po' queste comunità di Fab Lab, di, come dicevo prima, luoghi di co-working, ho conosciuto delle persone, in questo caso era un meeting che era stato, diciamo, organizzato su Twitter con degli appassionati di Linux e io ho detto cos'è questa cosa e ho avuto modo di mettere in pratica ancora di più questa, questa, diciamo, questa idea di condividere con altre persone che non appunto non entravano in relazione con il mio ambiente, ma che potessero appunto condividere con me le passioni, le loro passioni. Quindi da qua ho cercato di lavorare un po' in questi Fab Lab, quindi soltanto come presenza, quindi per captare appunto che cosa mi potessero dare questi Fab Lab e mettere in pratica un po' le mie idee. Ok, quindi un po' quello che citava all'inizio Giovanni, con questa contaminazione di wearable technology, quindi tecnologia indossabile, Arduino, quindi che automatizzava un po' qualsiasi idea che uno voleva mettere in pratica, con due ingegneri, quindi appunto l'ingegnere e un altro ingegnere, abbiamo ideato questa community open. Quindi era un progetto di alcuni video, quindi una decina di video presentati su YouTube dove si spiegava come utilizzare la piattaforma Arduino, quindi semplicemente un po' per i Nubis, quindi le persone che insomma comunque non come me non sapevano niente di Arduino, veniva appunto spiegato come era programmabile questo microcontrollore. Quindi da lì abbiamo visto che comunque le persone erano molto motivate a seguire i nostri video, avevamo appunto dei feedback molto positivi, quindi abbiamo pensato di, sul filone un po' dei social, che erano appunto in quel periodo molto gettonati, di aprire un po' un sito, un forum, una comunità. È stato un progetto durato due anni e noi avevamo iniziato appunto a condividere appunto i nostri video su Arduino, ma avevamo aperto questa possibilità, quindi era una piattaforma dove tu potevi caricare i propri video su tematiche che erano appunto sulla parte di programmazione, safety, quindi controllo appunto della sicurezza sui computer, non chiedetemi altro, e le nostre parole chiave erano impara, inventa e insegna. Quindi era un po' una sorta di comunità digitale dove uno poteva condividere le proprie idee e le proprie esperienze e condividerle appunto con le altre persone. È stato un progetto che appunto purtroppo è terminato, ma non perché non era interessante, ma perché ovviamente c'è stata un'evoluzione, quindi ovviamente gli ingegneri hanno avuto una crescita in altri... Hanno preso il potere e poi hanno preso il ruolo. Io ho portato avanti di class diciamo negli ultimi mesi e avevo pensato di trasformarlo quindi in qualcosa che potesse essere più vicino a quello che avevo, quindi condividevo contenuti sulla wearable technology, poi ho deciso che dovevo comunque cambiare, quindi andare comunque avanti nel mio percorso. Quindi sono ritornata un po' sui miei passi, mi sono portata dietro un po' questo zaino pieno di esperienza e ho viaggiato nel senso sempre comunque in Toscana e mi sono rifugiata a Prato, quindi Prato un po' il fulcro del tessile e della rigenerazione della lana e quindi anche lì il fatto di essere ancorati un po' al territorio ma creare cose diverse. Qua ho conosciuto due professori che lavoravano nel campo della wearable technology, in particolare uno aveva una vecchia azienda di suo padre che tesseva, quindi produceva dei tessuti, quindi anche dei filati. Con la crisi ha preferito trasformare la sua azienda in un'azienda che produceva tessuti wearable, quindi che introduceva all'interno della filiera tessile dei filati che potessero appunto condurre. Qua ho lavorato all'interno appunto di questo percorso che ha durato appunto un anno su quelli che erano i tessuti intelligenti, wearable, quindi Lillipad anche lì mi ha un po' aiutato, quindi avere un po' un background mi ha aiutato anche in questo senso qua. Ho comunque proseguito la parte un po' che mi caratterizzava, quindi ho ingegnerizzato ancora di più un po' il processo che mi mancava, quindi il fatto di capire da dove provengono i tessuti che io compro, quindi capire come progettare un tessuto e gli intrecci, e quindi da due semplici filati come creare un qualcosa. Anche qua ho lavorato con dei software CAD che mi permettevano appunto di progettare dei tessuti. Ok, quindi ho messo ancora insieme un po' quello che avevo, quindi benissimo, progettare i tessuti, quindi fare una ricerca, progettare un tessuto, mettere in pratica quelli che erano i finissaggi, quindi anche le lavorazioni che avevo imparato durante il corso, e poi renderle fisicamente, quindi creare un prodotto. Ok, dopo tutte queste informazioni, queste nuove discipline che appunto mi stavo portando dentro lo zaino, ho dovuto staccare, quindi ci sono dei momenti dove uno preferisce isolarsi, e in questo caso il mio isolamento è stato un viaggio di pochi mesi. Ho scelto Brighton, in Inghilterra, come luogo, perché avevo letto appunto che a Brighton c'erano stati appunto questi flussi di contaminazioni e in modo particolare mi aveva affascinato tantissimo il Royal Pavilion, che appunto è una residenza che qua sembra appunto una chiesa esteticamente, ma era una residenza del principe di Galles, e lui aveva preferito non viaggiare ma stabilirsi a Brighton e costruire una propria residenza estiva, avendo appunto una visione esterna caratterizzata da questo stile indiano e internamente uno stile orientale, orientaleggiante. Ho visitato il Royal Pavilion e sono stata molto sorpresa da questa contaminazione che lui aveva preferito costruire e non vedere proprio con i suoi occhi. Cerchiamo un po' verso una parte più recente. Sì, sì, sì. Ok, quindi dopo questo piccolo viaggio mi sono sposata dalla Toscana, in Lombardia. A Milano, dove attualmente appunto abito, ho potuto mettere in pratica e riprendere un po' in mano questo zaino che mi portavo sempre dietro. Quindi attualmente sono impiegata in un'azienda che si occupa di software e in modo particolare sviluppa software per l'abbigliamento, CAD per l'abbigliamento. Avendo appunto questo background sono stata appunto presa per la parte di 3D Fashion Designer quindi la parte della simulazione tridimensionale degli abiti. Quindi qua è stato un cambiamento molto positivo per me quindi ho preferito spostarmi dalla Toscana perché è bellissima terra però in questo momento, appunto due anni fa preferivo andare in quello che era un po' il mito del Milano moda. Qua appunto attualmente io mi occupo di simulazione di abbigliamento su software 3D sono una formatrice quindi condivido quello che conosco con i miei clienti quindi con i clienti nel settore della moda supporto il cliente e ovviamente simulo quello che è l'abbigliamento ma poi mi sono appunto anche appassionata a quella che è la modellazione e la creazione di tutto quello che è oggettistica per l'abbigliamento. Quindi semplicemente che cosa faccio? Creo un cartamodello sul CAD Inserisco i dati tecnici del tessuto all'interno del software In questo caso non sono una modellatrice ma ho un avatar quindi vado a generare un avatar con delle misure appunto reali e vado a simulare il mio cliente in modo però virtuale. Quindi in realtà questo ha fatto sì che io racchiudessi appunto nei miei ultimi anni in questo caso di vita professionale quelle che erano un po' il mio background quindi ad oggi lavoro appunto con aziendalmente con dei software appunto dell'azienda ma preferendo comunque le comunità e quindi lavorare anche con software che sono reperibili sul web in modo molto semplice e open e free ho conosciuto dei software che mi stanno... Esatto, esatto che un po' mi aiutano a sostituire in modo temporaneo quindi nel mio tempo libero quelli che sono appunto la simulazione tridimensionale quindi cito Valentina e Simly che ha appunto questo doppio nome è un software di creazione del cartamodello open dove appunto che io reputo molto valido perché appunto vado a creare il mio cartamodello e ho anche uno sviluppo taglie quindi ho anche un'automatizzazione di quelle che sono semplicemente le squadrature per iniziare appunto a creare un cartamodello molto interessante sono i software di modellazione che cito Sculptris e DAS 3D Sculptris per la modellazione diciamo per lo Sculpting degli oggetti tridimensionali e DAS per la creazione degli avatar Blender cito anche Blender che in realtà grazie mi hai dato dei siti molto validi che appunto devo andare a vedere ho sempre visto dei tutorial ho scaricato ovviamente Blender ma appunto l'interfaccia è sempre stata abbastanza impressionante per me esatto ho visto però che su Blender posso andare a simulare degli abiti quindi vorrei approfondire questo campo sulla parte appunto di simulazione tridimensionale allora io vorrei sì abbiamo sì 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 i tempi ovviamente ognuno sono un po' stretti e allora tiro una somma perché mi è piaciuta comunque esatto la parte che il modello comunitario di condivisione l'hai vissuto da sempre è stato è stato dato esatto dai tuoi sinitori hai beneficiato quindi penso che anche questo sia interessante da trasmettere come come anche la tua creatività si esplosa il fatto che non ti sei voluta diciamo lasciar chiudere da quei paletti magari del percorso scolastico hai sempre voluto quindi una parte importante sicuramente ai genitori ma anche magari da questo confronto dal fatto che avevi dei feedback esatto e adesso ovviamente per lavoro ti adegui a quello che l'azienda ti mette a disposizione la domanda che il filo conduttore mi chiede una risposta abbastanza concisa è lo scenario secondo te parlavamo quindi più digitalizzazione in un in un ambito tradizionalmente molto vedi fattibile vedi una crescita e probabilmente magari potranno essere anche strumenti aperti ma comunque vedi lo scenario che vedi per il prossimo futuro in questo ambito è quello della maggiore digitalizzazione sì anche perché appunto l'esperienza che ho avuto con WeMake che è questo Fab Lab una makerspace a Milano lì ho visto come è possibile andare verso questa digitalizzazione della prototipazione nel settore moda quindi lì ho potuto captare che effettivamente la mia visione del futuro un po' nel mondo della moda è il fatto di digitalizzare un po' questo processo quindi velocizzare un po' il processo di quello che è appunto la creazione e la sartoria e avere subito il prodotto pruibile o comunque condivisibile con le persone con i tempi innettamente più rapidi esatto del processo artigianale hai un paragone di tempo quanto è la prototipazione artigianale versus ad esempio la prototipazione di una giacca classica da uomo che ha interni teletti adesivi dal punto di vista artigianale ci possono appunto implicare settimane quindi comunque cinque giorni all'incirca tra prendere misure su misure e così via dal punto di vista invece di prototipazione digitale anche mezzogiornata un giorno quindi di avere comunque il modello già sdifettato sul computer infatti alla wemake avevo appunto creato una felpa poi laserata appunto in questo caso in mezza giornata e poi cucita nella stessa giornata e quindi in questo caso indossata anche con costi comunque accessibilità molto esatto non paragonali no 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 affatto quindi un po' conclude dicendo che la ricetta un po' che mi sto portando sempre dietro quindi un po' le parole chiavi che le chiavi che mi porto appunto dietro sono il fatto di avere sempre una fame di conoscenza quindi non fermarsi mai non procrastinare quindi non rimandare se una persona ha delle idee o comunque la voglia di andare sempre avanti e il cambiamento è sempre positivo quindi ci saranno sempre delle delle avversità delle cose che appunto vi fermano però il cambiamento è sempre positivo anche per appunto avere diciamo un po' la visione del mondo in maniera diversa benissimo grazie ti ringrazio grazie